Durante la formattazione di quel PC sono rimasto colpito. Maledetto spigolo! Assistenza informatica, buonasera, sono Grizzly. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Grizzly. La posso aiutare? Ma chi parla? Ma questo c'è, ci fa o c'è solo il telefono guasto? Sono Grizzly, tecnico informatico. La posso aiutare? Sto cercando Grizzly. Propendo per il ci fa. Sono io, desidera qualcosa o posso chiudere la telefonata? Non lo so, cercavo un tecnico informatico. Qual è il problema al computer? Sa, non ne capisco molto, dunque non lo so qual è il problema. Vi può aiutare? No, ho sbagliato. Questo c'è. No, grazie per aver chiamato e arrivederci. Ciao a tutti e alla prossima! Ma se già sono così di lunedì, io a sabato come ci devo arrivare?